salve con questo video vedremo come seguire la finizione a mochettina semplice io già ho preparato tre spilli e sugli spilli metteremo cinque coppie come abbiamo fatto fino adesso due al primo una coppia allo spillo centrale e due coppie allo spillo di sinistra faccio un primo giro appunto tela poi aggiungeremo una nuova coppia per poter eseguire la finizione a mochettina semplice come vi dicevo sul lato destro quindi iniziamo incrocio girata incrocio e facciamo tutta la il giro appunto tela due girate intorno allo spillo da questo lato faremo la mochettina semplice o la cimosa arrivati a questo punto dobbiamo aggiungere una nuova coppia per poter eseguire la finizione mettiamo uno spillo accavalliamo una coppia e facciamo in questo modo questa è la coppia portante che abbiamo lavorato questa è la coppia che ho appena aggiunto facciamo due girate a entrambe le coppie facciamo un punto intero questa che è la coppia che ho aggiunto la mettiamo in verticale il portante orizzontale come se volessimo fare un lavoro normale della mettiamo lo spillo di una mochettina normale facciamo nuovamente due girate e due è un punto intero sistemiamo bene il lavoro coppia verticale la teniamo in verticale e il portante lo spostiamo completamente dall'altro lato proprio per dare in modo fare in modo che il nodo che è stato eseguito col punto intero torni vada al suo posto abbandoniamo momentaneamente questa coppia facciamo due girate al portante e lavoriamo gira e incrocio girata incrocio lavoriamo il resto delle coppie normalmente come stavamo facendo quindi appunto tela incrocio girate incrocio incrocio girata incrocio angolo retto pillo nel vertice torniamo due girate intorno allo spillo torniamo a fare nuovamente il punto tela su tutta la biscetta sistemiamo bene i fili il lavoro riprendiamo la coppia adesso dobbiamo fare nuovamente la finizione riprendiamo la coppia che avevamo lasciato in sospeso due girate sia al portante che alla coppia per della finizione facciamo un punto intero angolo retto spillo due girate punto intero sistemiamo il nodo facendo io dico facendo ballare i fuselli tra le mani adesso dopo vi faccio vedere l'inquadratura da lontano che intendo per far ballare i fuselli tra le mani sistemato il punto abbandono temporaneamente la coppia della finizione due girate e riprendo a lavorare il punto tela della biscetta arrivato a questo nuovamente mettiamo lo spillo nell'angolo due girate punto tela adesso vi faccio vedere i movimenti da lontano quindi questo è il portante questa è la coppia della finizione due girate un punto intero angolo retto questo e questo intendo io per far ballare i fuselli tra le dita allargarli tenerli larghi e fare questo gioco tenendo teso il filo i fili mettiamo lo spillo nuovamente due girate un punto intero e facciamo ballare dall'altro lato in questo modo il punto intero che abbiamo fatto il nodo del punto intero che abbiamo fatto si asseste e battuto al posto suo questa va in sospeso questo è il nuovo portante questo è il primo verticale due girate al portante prima di lavorare e torniamo a fare nuovamente tutto il rigo appunto tela spillo due girate torniamo verso l'esterno adesso vi faccio vedere la mochettina vista da vicino quindi questa è la coppia portante questa è il verticale facciamo due girate un punto intero angolo mettiamo lo spillo due girate a entrambe le coppie punto intero e facciamo ballare questa la lasciamo in sospeso riprendiamo la lavorazione due girate al portante prima di fare il nuovo giro appunto tela facciamo ancora un giro due girate controlliamo che i fili sono paralleli quelli della coppia verticale nel caso tiriamo leggermente così evitiamo di far venire il lavoro fatto male nuovamente a fare la mochettina portante portante coppia che scende in verticale due girate punto intero angolo retto spillo spillo e due girate nuovamente punto intero sistemiamo il lavoro facendo ballare i fili torniamo due girate un altro giro appunto tela abbassiamo un po' gli spilli e togliamone qualcuno questa è la mochettina di finizione la mochettina semplice come vi dicevo prima questa è la mochettina semplice perché c'è solo un filo in questo punto in molti giornali per far capire che c'è bisogno che bisogna eseguire la mochetta di finizione viene fatto questo segno viene indicato con questo segno quindi quando vedrete sui disegni un disegno simile a questo ovviamente fatto meglio di come l'ho fatto io sta a significare che qui bisogna fare la mochetta di finizione grazie a tutti Grazie a tutti.